Credo che bisogna più che mai portare dentro il turismo delle idee, che queste siano off, online, a me non interessa. Lo sforzo che dobbiamo fare è dimenticarci i motori di ricerca, nel senso che dei motori di ricerca negli algoritmi non c'è un'idea, c'è un modo per renderti trovabile. E' quello che c'è dietro quell'algoritmo che noi dobbiamo imparare a fare, non è il SEO, non è il SEM, non sono le recensioni online che ci faranno restare nella testa dei viaggiatori. Sono le idee. C'è lo spazio, non so se ci sia la voglia, non so se ci sia la cultura, non so se ci sia l'intelligenza. Vediamo delle cose che ci fanno perdere un po' di ottimismo a volte. Pensiamo a Italia.it, pensiamo al caso del logo di Salerno, pensiamo allo spreco del denaro pubblico che molto spesso ancora nel nostro paese purtroppo è all'ordine del giorno. Quindi lo spazio c'è, guardate che è pieno di gente che ha voglia di mettere in circolazione delle buone idee. Purtroppo non c'è nessuno che abbia voglia di ascoltarle queste idee. Le istituzioni lavorano ancora su logiche veramente anacronistiche. Io credo che ci sarà inevitabilmente più spazio per le idee perché ci sarà inevitabilmente un ricambio generazionale. E al prossimo cambio generazionale io credo e spero che chi parlerà davanti a questa telecamera non si sentirà chiedere se il turismo online o digitale è diverso da quello offline, è migliorato o è peggiorato perché ci sarà solamente un turismo inteso come valore importante asset strategico di un paese.